15 agosto 1969 Sono le 17.07 quando a Bethel, una cittadina dello stato di New York, risuonano le prime note di High Flying Bird di Richie Heavens. Prende l'avvio il Festival di Woodstock, che in tre giorni di musica vedrà la partecipazione di 400.000 spettatori, in grande maggioranza giovani. Grazie a tutti.